Guido Reni dipinse per il conte Zambeccari di Bologna un grande quadro da collocare su un caminetto della casa del nobile raffigurante Sansone che beve l'acqua dalla mascella d'asino dopo aver sconfitto e ucciso migliaia di filistrei. Quadro bellissimo che oggi si conserva alla Pinacoteca di Bologna tipico esempio dello stile morbido, elegante, raffinatissimo, dolce di Guido Reni per evocare però un evento luttosissimo, la grande lotta condotta appunto da Sansone contro i filistei, gli occupanti della terra della Palestina a quell'epoca secondo il racconto del libro dei giudici della Bibbia. Quelle tremende vicende si svolsero in un luogo che la Bibbia chiama Gaza e questo non può non farci riflettere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.